ok eravamo arrivati qua eravamo arrivati qua e quindi cattive notizie difficoltà semplice e avvia e avviamo ma questa non è Chirone ci siamo persi niente affatto tante volte ho percorso questa strada ma non ho mai visto questa costruzione è recente le incisioni nelle pietre sono fresche non sembra proprio l'opera di comuni banditi dove sono gli uomini di Locos all'interno forse troviamoli esplorate la zona e scoprite se ci sono risorse disponibili a presto 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 osc abend этой Laige Vulo me Malista Etc Malista Prostagma Ma cosa c'è? Cerchiamo di accumulare le risorse Ah vedi? Vai Vai Poi andate qua anche tu La nostra zona sembra molto ricca di legna E grazie Grazie Vulo me Vulo me Vulo me Vulo me Vulo me Grazie a tutti. vediamo di circondarci magari date una mano next test una religia aumenta il campo agisivo degli esploratori per la prelostrazione dei vicoli cecchi non me ne faccio nulla tornate ai rami e vai ora tu perché tu non fai niente non va mica bene questa cosa per la prelostrazione per la prelostrazione per la prelostrazione direi che non stiamo andando male via che non fai niente radiamo al suolo questi alberi disboschiamo tutto per la prelostrazione per la prelostrazione per la prelostrazione attrazione per la prelostrazione attrazione Eh, che è successo? Chi osa? Tornate nei ranghi. Bravi. Bravi- Prostagma? Ne. Legge? Vullo me. Portoso. Vullo me. Spagno. Aumentiamo i ranghi, va? No, no, no. Aumentiamo i ranghi, va? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Caprette, andate qua. Come siete messe? Ancora un pochino. Arriverete a 300 e poi maciarlo tutte. Prostagma. Prostagma. Malista. Qua a legname direi che sono in abbastanza. Vai, 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 altri, altri abitanti. Prostagma. 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 alletta eroica che avessi il mercato allora scelta di un dio minore dell'età eroica prendiamo allora c'è culto di Dioniso, dio del vino e dei festeggiamenti e potenziano la cavalleria in più danno idra e scilla culto di Apollo e i suoi potenziamenti rendono più abili gli arcieri che inoltre danno a manticora, passaggio per l'oltre tomba varigione al templio lei è lui poi prendiamo tu e ne costruiamo uno qua ah già mi ero dimenticato devo pregare al templio se no come faccio del favore l'unico modo per fare del favore con i greci è quello pregare al templio Zeus dammi il tuo favore vai una troplita grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti direi che di qua per il momento possiamo anche lasciare che vada farigione subito quindi facciamo anche quello aspettiamo devo consolire un mercato legge vullo 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 ok vendiamo del legname e compriamo della carne allora età mitica il fatto della tempesta di fulmini mi alletta però c'è solo poi quello se io prendo lui potenzio le mie unità e in più c'è un bel colosso un'altra miniera d'oro e qui scarseggiamo scarseggiamo e qui scarseggiamo dai questa è quasi vuota qui non ce ne tantissime per tutti i dei dell'olimpo sono a livello massimo potrei fare questo allora quattro unità costa popolazione cinque facciamo facciamo le cose due bene ora genereremo ricchezza illimitata per chiunque lo controlli quindi vedremo le nostre scorte di risorse aumentare che cosa vuoi mi minaccia osa tanto è una vergogna detesto che mi minaccia è una vergogna di riserva di riserva è giusto un po' di gente allora iniziamo a potenziare un po' creando dei soldati scelti pregate pregate state anche voi sono all'ultima capra? bene oserei dire anche finalmente legge potenziamo potenziamo aspettiamo per i potenziamenti dell'armeria su prega non è che sei lì a l'armeria 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 continuiamo qui a potenziare la ah ok ma dove andate? venite qua non fami oh Magari qualche soldatino Dicevamo Ok Ah il tuo contributo Ma intanto pregate Tu invece fai del cibo 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 Potenziamo Qui al massimo Qui al massimo Infatti siamo diventati dorati Guardate quanto siamo belli Tutti belli dorati Con l'osso d'oro Vedi Tutto dorato Ecco dove stai Sul Trespolo Sul cucuzzolo Della montagna Beh direi che intanto Che ci potenziamo Andiamo Va Spacchiamo un po' Di mura Ah ce ne sono accorti E' volato via Come un fassoletto Di carta Al vento Mali 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 Ismoli e 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 direi che possiamo venire qua ne può venire fuori un'altra e sono morti in un po' abbiamo avuto delle perdite e dobbiamo distruggere quella fortezza è un problema che che è che che è Dalla lunga distanza State buoni voi Stai qua Carogna di un ignorante Andrà a morire Oh Va bene si sono già corti di noi Adesso arrivano Facciamo degli altri Colossi Poi andate a pregare Allora vendite il legname Eddi Tornate in posizione Allora Qua abbiamo fatto tutto Qua Andiamo in avanti Scoperta con le catapulte Toro venivano da qua Quindi se io vado di qua Forse Non ho problemi Se la faranno Non ho problemi No 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 andate a vendicarli ricostruiamo un po' di torri che non fanno mai male e ci vogliono altri due colomini ma no, venivano da qua i vigliatti lasciateli pure scappare grazie 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 servono dei colossi grazie 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 Ne posso fare altre due. Dai che fa, andiamo bene. Continua l'opera di disboscazione. Disboscazione, chissà come sia. Non c'è l'opera di disboscazione, chissà come sia. Non c'è l'opera di disboscazione. 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 Direi che siamo a cavallo. Direi che il mio esercito di Colossi... di Colossi è pronto. Andate, andate. Tanto arrivo, eh? Me la pagate? Maledetti. Ci provano, guardali. Ok, allora. Detto questo, facciamo una piccola pausa. Diciamo un fine primo tempo. Fine primo tempo. Ok, quindi continuiamo. Quindi continuiamo e andiamo all'attacco con i miei Colossi. Nuovi di Zecca. Insormontabili. Scusate un attimo. Scusate un attimo. Scusate un attimo. Ok. Torna la partita. Come usate? Quattordici Colossi. Quattordici Colossi. Diciamo. Si buenissime. 1 Est�목ista Bravi, smantellate tutto. Bravi, smantellate tutto! Riparati! Ok, andiamo! Ah, eccovi! Voi prima avete usato a lanciare delle frecce contro i miei abitanti Che Zeus vi fulmini! Allora, torniamo alla nostra operazione Allora, avanti! Voi prima questa! Che cazzo ci fa la ghiace qua? Ma che è chi? Dai qua! Che cazzo! 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 Divertitevi! Che cazzo! Che cazzo! Facciamo un po' Di poteri! Tu! E' qua! E' un'altra cosa? Continuiamo. Ah, quante risorse che c'hanno. Un po' di selvaggina. Ah, buongiorno. Ah, buongiorno. Che per caso disturbo? Con permesso. Oh, scusate. Giuro che non l'ho fatta apposta. Queste case sono abusive. Non posso permettere che rimangano in piedi. Oh, scusate. Oh, scusate. Oh, scusate. Oh, scusate. E no, venite qua, dai. Magari evitiamo di farti colpire. Bene. Torniamo qua. Ottone. Torniamo. 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 Ci. Torniamo. Torniamo. Sì, non sono male, non sono mai quasi… Bene, bene Andiamo qua Avanti, lavorare Cosa vuol dire questa storia di Siete in sciopero? Faccio vedere io lo sciopero Avanti Anche te Avanti E in street homos Legge Orfos Avanti, lavorare Orfos 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 Siamo i distruttori della vostra cittadina Non potete fare nulla contro di noi Colosso Il grosso di Rodi Era una delle sette meraviglie del mondo antico Mi manca la base di marmo Eh Se non erro Qua c'è una torre Che blocca il passaggio A me non piacciono i passaggi bloccati Una è passata Sopravvive poi a poco Cosa c'è l'acqua? Cosa c'è l'acqua? Qua c'è I letti concedono maggior favore Bene Allora Voi che siete impegnati a non fare niente Andate qua Non è che si vive solo di preghiera Avanti Abbiamo il favore massimo Abbiamo potenziato tutto Sì 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 Il mercato Sì 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 PANNI 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 C'è passato non è che vai vieni qua non potete nulla contro di me queste costruzioni sono pericolanti non è colpa mia è che non trovavo il campanaccio per suonare allora dovevo bussare la porta ma queste vengono giù ripigliate ripigliate legge non è che non è pericolanti esatto spaccate tutto e i lavori forzati giusto spaccate 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 direi che direi che ci siamo crediamo anche gli altri eroi vediamo di qua c'è qualcun altro curate vivanti vi voglio belli in forma è stato legge prostagman legge legge in chiave l'avete prossimata difendete il confine anche se non c'è niente da difendere ormai avete disintegrato tutto ah, aiace grazie 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 ok finiamola qui è inutile tergiversare certo potrei fare un insediamento qua un insediamento qua prendere tutte le risorse ma sarebbe solo un rendere tempo Sì Atena, dacci la tua forza Weeha! Bene Basta con le chiacchiere codardo Fatti avanti, Atlantide non teme quelli come te Giusto Corno Questa è grave Minazzi mio figlio Castore Vergogna Et voilà Anche questa è fatta Quindi Abbiamo distrutto tutto Abbattuto tutto Ci siamo divertiti con i Colossi Alla prossima Grazie a tutti